Radio Radicale, siamo con l'On. Emilio Carelli per parlare con lui della corsa al Quirinale. Allora, noi abbiamo visto che ieri il segretario del PD Letto ha fatto un appello alle forze politiche per impegnarsi sulla legge di bilancio per poi parlare del Presidente della Repubblica. Allora, come ha trovato l'iniziativa del segretario del PD, che è stata subito sostenuta dalla Lega e da Forza Italia. Allora, è rimasto sorpreso da queste adesioni, da questa iniziativa, oppure pensa che poi sarà fisiologico continuare a parlare di questo tema? Io, per quanto mi ricordo, non si era mai cominciato a parlare delle elezioni del Presidente della Repubblica con così ampio anticipo. L'elezione si terrà probabilmente a fine gennaio, primi giorni di febbraio, quindi mancano ancora praticamente quasi tre mesi. E nelle scorse elezioni il dibattito iniziava su per giù qualche settimana prima. Quindi sono convinto che questo appello sia positivo, sono convinto che si debba in questo momento fare una pausa e dedicarci più ai problemi pratici del Paese, che sono poi fare una legge di bilancio, che vada ad alloccare bene tutte le risorse e porti avanti il PNRR. E se poi questo appello, che formalmente è stato accettato, verrà rispettato, questo non lo so. Io temo che tra qualche giorno poi si ricomincerà a parlare ancora di Quirinale, perché questa è la politica, perché forse in questo momento il fatto che non ci sia un governo politico, ma un governo di ampia coalizione rafforza sì le posizioni di Draghi del Paese, ma mostra anche tutti i limiti della politica di oggi. Quindi nessun partito in questo momento è capace di imporre una candidatura forte. Ecco perché se ne parla tanto. E' rimasto sorpreso nel vedere l'adesione di queste forze politiche all'appello di Letta? No, non sono rimasto sorpreso, anche perché penso che si debba arrivare alle elezioni del Presidente della Repubblica con grande serenità. Quindi creare troppa tensione, rischiare di bruciare troppi nomi. Il primo a essere bruciato, se si continuerà a parlarne così, sarà proprio il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Quindi mi sembra anche corretto in questo momento prendere un momento di pausa. Noi come Coraggio Italia, devo dire, avremo 34 grandi elettori tra deputati, senatori e rappresentanti regionali. Su 1.700 che dovrebbero essere, mi sembra, in questo momento i grandi elettori, rappresentano comunque un numero che potrebbe, in caso di più candidature, spostare, diciamo così, i voti o da una parte o dall'altra. Quindi lei ritiene che sarete decisivi insieme agli altri, quelli che vengono definiti come i non iscritti al Parlamento europeo? Beh, sicuramente è una situazione abbastanza nuova che si sta creando perché abbiamo un gruppo visto formato da 60 parlamentari. Abbiamo molti gruppi di centro che, se messi insieme, possano rappresentare una forza decisiva e comunque determinante. E questo è comunque il ruolo che vogliamo giocare anche noi come Coraggio Italia. Senta, come ha trovato il risico di diritto costituzionale che è stato fatto sul nuovo ruolo del Presidente della Repubblica, semipresidenziale? Ho visto che molti si sono dichiarati scandalizzati quando noi abbiamo visto negli anni scorsi dei Presidenti che di fatto sono stati dei Presidenti della Repubblica quasi in una forma di governo semipresidenziale. Ecco, questo è vero, però io penso che qualsiasi riforma costituzionale che vada ad attribuire al Presidente della Repubblica un ruolo diverso da quello che ha in questo momento, quindi di Capo dello Stato e non un ruolo di governo o di semigoverno, come vorrei, il semipresidenzialismo debba essere comunque discusso e approvato dal Parlamento. Queste forzature, l'abbiamo visto, ne ha parlato Giorgetti, si è aperta una discussione. Questa è una discussione che dura da tanti anni, la tentazione di un semipresidenzialismo, del presidenzialismo, cioè di un Presidente eletto direttamente dal popolo che abbia anche un ruolo determinante. Nel governo c'è sempre stata, è una tentazione che così ha allettato molti in questi ultimi decenni. Io personalmente resto del parere che in questo momento l'ordine costituzionale che abbiamo sia il migliore possibile e il ruolo che ha il Presidente della Repubblica in questo momento debba rimanere tale. Mattarella si è comportato da Mitterrand, secondo lei, in questa legislatura? No, Mattarella ha rispettato il suo ruolo. Mi è piaciuto molto quando, il giorno del fallimento dei Conte Terre, e sembrava che la situazione potesse precipitare anche verso un voto anticipato, si è presentato al Paese quella sera intorno alle 20 davanti alle telecamere e con fermezza ha dichiarato che il Paese in un momento così grave di crisi come quello della pandemia da Covid-19 non poteva andare alle urde e doveva mettere in atto tutta una serie di misure per poter usufruire degli aiuti europei e quindi lui avrebbe deciso, in maniera molto ferma, di portare avanti la legislatura e di dare l'incarico a una personalità che avrebbe potuto governare bene il Paese. Dopo un'ora il Segretario Generale Zampetti annunciava la convocazione di Mario Draghi al Vindale. Ritiene che Mattarella potrebbe accettare un reincarico? Perché noi stiamo vedendo lo stesso scenario che avevamo visto con Napolitano che addirittura una settimana prima della sua rielezione disse che non era disponibile. Potrebbe succedere la stessa cosa con Mattarella? Questo dobbiamo chiederlo a lui, io non ho la capacità di leggere il suo pensiero. Capisco anche che lui formalmente continua a dichiarare che non è disponibile a un secondo mandato. Penso anche che per spirito di servizio, qualora all'ultimo minuto non si trovassero accordi e si arrivasse a un impasse che non viene superata da nessun tipo di votazione, un appello di tutte le forze politiche all'attuale Presidente per restare ancora in carica e disponibile a varie elezioni, probabilmente conoscendo anche la generosità con cui Mattarella ha gestito il mandato in questi sette anni, probabilmente potrebbe anche accettare. Certo, fino a quel momento non lo ammetterà mai. Lei ha pensato a un nome? Ma io personalmente sono convinto che la candidatura di Mario Draghi sia una buona candidatura. Naturalmente potrà funzionare se ci sarà un accordo di tutti i partiti, di tutte le forze politiche che lo portino all'elezione già al primo scrutinio. Scusi se utilizzo questo termine. Il pacchetto dovrebbe considerare anche l'ipotesi del nuovo Presidente del Consiglio, così per cogliere due piccioni con una fava e per non creare, perché quando si parla di Draghi al Quirinale si parla come se si parlasse del giudizio universale. No, io penso che questo poi deve essere lasciato alla libertà del nuovo Presidente della Repubblica. Non possono essere fatti accordi prima. Certo. L'ultima cosa, ogni elezione presidenziale esce fuori il tema della donna. Allora, volevo sapere come ha trovato questo utilizzo strumentale che quando i partiti, i gruppi parlamentari non sanno che pesci prendere tirano fuori ecco ci vorrebbe una donna che poi non viene eletta. Ma io penso che si rischia a volte di fare una discriminazione al contrario quando si vuole a tutti i costi nominare una donna ad un incarico importante. E se si troverà un candidato donna valido su che raccoglie il consenso di tutti perché no, ben venga il primo Presidente donna. Ma cercare un Presidente solamente perché donna scartando tutti gli uomini si arriva a una discriminazione al contrario. Le volevo chiedere una cosa su Berlusconi. Lei ha lavorato tanti anni non per Berlusconi ma per una rete legata a Berlusconi. Forse ho cercato di dirlo in maniera più corretta. Allora, volevo sapere cosa ne pensa. Lei l'avrà conosciuto molto bene, immagino. Ma io penso, io ho lavorato 23 anni a Mediaset. È stata una bellissima esperienza professionale. Telefonava a Berlusconi? No, telefonava quando era il capo dell'azienda naturalmente si facevano incontri, riunioni per decidere cosa fare dal punto di vista proprio dei programmi. Come editore è stato corretto? Come editore è sempre stato molto corretto e ha lasciato sempre la massima libertà. So che adesso si parla di una candidatura da parte del centro-destra di Silvio Berlusconi. Penso che se si trovano i numeri e se si trovasse una maggioranza in tal senso potrebbe comunque svolgere questo ruolo ricoprire questo ruolo con grande esperienza e capacità come ha sempre dimostrato in passato. Bene, sento, la ringrazio tantissimo per la sua gentilezza. Grazie come sempre a Emilio Carelli. Grazie a voi. Di Coraggio Italia, scusi, non l'ho detto all'inizio. Grazie. Grazie. Grazie.